state per vedere un video della serie non era una brava persona rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana come potete vedere il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario tale faccina detta anche emoji nel cerco visuale condiviso dalla società dell'immagine indica ironia scherzo ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico non dissacrante non sarcastico ironico avvertenze la visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche peace and love guys ah quest'ultima cosa non è ironica amiamo la letteratura italiana è di una bellezza disarmante la settimana scorsa abbiamo parlato di giovanni pascoli e adesso probabilmente pensavate che sarebbe arrivato gabriele d'annunzio un po perché nei libri di scuola questi due camminano insieme tipo giovanni sia mesi no pascoli e d'annunzio e invece no perché a me non piace essere troppo prevedibile e soprattutto perché a mio avviso raggiunta l'ora che in questa rubrica comparisse una donna e che donna perché dovete sapere che grazia dell'edda è stata una delle scrittrici più interessanti che abbiamo avuto in italia nonché l'unica donna ad essere stata insegnita nel nostro paese del premio nobel per la letteratura quindi un motivo ci sarà pure e vi assicuro che rientra bene in questa nostra rubrica non tanto per aspetti del suo carattere che possano essere definiti come vizi e quindi non era una brava persona più che altro per il fatto che gli altri in questo caso la definivano una non brava persona perché grazia dell'edda era una donna diversa da tutte le altre non era una donna che stava solo a casa a badare la propria famiglia ai propri figli è una donna che ambiva a fare la scrittrice era una donna che pubblica aveva successo era una donna che addirittura sarebbe diventata la guida della casa per la quale il marito praticamente lavorava una donna che aveva più di una ragione per cui la gente all'epoca storcesse il naso la criticasse ed esprimesse delle opinioni molto poco lusinghiere nei suoi confronti insomma sono tanti quelli che dicevano che grazia dell'edda non era una brava persona probabilmente in questo caso non proprio ha ragione perché è un po il mito della volpe l'uva no quando si dice a una cosa non ci arrivi allora è acerba e forse funzionava così però per capirlo meglio mi sembra il caso di approfondire meglio questa figura e quindi grazia dell'edda vi rassicuro però gabriele d'annunzio arriverà arriverà perché è un po quasi contemporaneo grazia dell'edda nasce a nuoro nel 1871 mentre gabriele d'annunzio era nato nel 1863 quindi più o meno siamo nello stesso periodo insomma non è che siano proprio secoli diversi perciò datemi un po di tempo e vi garantisco che arriverà anche il bate ma oggi diamo spazio a lei a questa figura femminile così interessante così disgraziatamente dimenticata relegata in un angolo non affrontata nemmeno nei percorsi scolastici quasi mai io la faccio sempre ai miei studenti la faccio affrontare ogni anno etapa obbligata credetemi può capitare a volte che carducci lo saltiamo ma grazia dell'edda mai perché secondo me è impensabile saltare una donna che è stata vincitrice del premio nobel cioè ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo una scrittrice riconosciuta in tutto il mondo insegnita del più prestigioso premio che esiste e noi non la studiamo ma mi sembra anche il caso di rifletterci un attimo su questa cosa no ci sarà pure un motivo se non compare nei libri di scuola chiediamocelo domandiamocelo perché e ci sarà anche un motivo se collocarla in un genere è sempre complicato infatti il sottotitolo del video di oggi potrebbe essere grazia dell'edda o questioni di genere sì questioni di genere che poi è una bella parola perché la possiamo interpretare da due punti di vista no genere genere inteso come genere maschile genere femminile e quindi il fatto che lei sia una donna e una donna di tanto successo non piaceva a buona parte dei letterati e critici uomini che non apprezzavano appunto il suo modo di essere scrittrice qualcuno la definiva in maniera dispregiativa e molto poco rispettosa una casalinga prestata alla letteratura ma non è soltanto questo è anche una questione legato al genere inteso come genere letterario se ci fate caso e controllate nei vostri libri di letteratura quando si parla di grazia dell'edda se c'è se miracolosamente c'è la si colloca a volte come esponente del verismo a volte come punto di riferimento del decadentismo e allora tu ti chiedi insomma come funziona questa era verista era decadentista cioè che cosa faceva ti chiedi che ruolo aveva dove la inseriamo e questo è uno dei tanti problemi della critica letteraria che vuole per forza inscatolare gli scrittori e le scrittrici all'interno di un genere letterario perché perché è più facile perché avere un genere significa definire un cerchio un contorno preciso che permette al lettore di fruire più facilmente quello che lo scrittore o la scrittrice in questione ci vuole comunicare però come ho cercato di farvi arrivare anche nei video delle settimane precedenti un genere si da una parte è identificativo perché ci offre un contenitore ma dall'altra parte è molto limitante perché reclude uno scrittore o una scrittrice all'interno di una scatola e non ne fa vedere più le sfumature gli aspetti peculiari quelle caratteristiche singolari che per quanto la critica possa sventolare le bandiere sostenendolo non possono essere esaurite del tutto da nessuna categoria di genere bisogna aprire un po le vedute e dare spazio alla singolarità di quella produzione specifica che è poi la creatività del singolo scrittore o in questo caso scrittrice ma bando alle ciance che qui con la premessa l'abbiamo fatta lunga se siete arrivati fino a qua e ancora non mi conoscete e volete continuare ad ascoltarmi sappiate che io mi chiamo martina su questo canale si parla di libri e in particolare questa è una rubrica dedicata alla letteratura italiana attraverso le biografie dei grandi scrittori e delle grandi scrittrici oggi quindi intraprendiamo la scoperta della vita di grazia del edda che come vi dicevo nasce a nuoro in sardegna nel 1871 il 27 28 settembre questo non lo sappiamo perché come al solito le fonti sono discordanti ma sappiamo anche che c'era una certa imprecisione lo abbiamo visto anche con altri scrittori in questa rubrica ma è poco importante insomma un giorno vale l'altro era la quinta di sette figli figlia di giovanni e francesca apparteneva ad una famiglia benestante il padre è un procuratore legale era un cattolico intransigente e si dedica al commercio del carbone lei comincia a studiare ma si ferma ad un certo punto più o meno alla quarta elementare perché per una ragazza allora era inconcepibile continuare gli studi quindi lei lascia la scuola e prosegue a casa seguito un po da un precettore ma poi fondamentalmente continua ad autodidatta tanto è vero che si sentiva abbastanza insicura e più volte in delle lettere in particolare al de gubernatis con cui intraprese una corrispondenza diceva che lei non si sentiva brava aveva questo problema un po con l'autostima no come capita a tante ragazze a tanti ragazzi oggi di sentirsi non all'altezza non abbastanza brava non abbastanza capace e diceva di non saperlo fare di non saper scrivere perché lei aveva una cultura dialettofona perciò le sembrava di tradurre dal dialetto all'italiano e percepiva questo scarto come una deficienza cioè come una mancanza come una incompletezza che non le permetteva di arrivare lì dove avrebbe voluto aveva un carattere quieto un carattere trattenuto era piuttosto mite tranquilla nel corso della sua giovinezza dovete affrontare una serie di sciagure capita spesso agli scrittori di avere delle infanze adolescenze molto tormentate pensate un po a Giovanni Pascoli cui abbiamo parlato la settimana scorsa e ma lei guardate che siamo più o meno lì perché il fratello santus a un certo punto diventa un alcolizzato il fratello andrea viene arrestato per dei piccoli furti il padre muore per una crisi cardiaca e poco tempo dopo muore anche la sorella vincenza quando muore il padre lei ha 21 anni la famiglia si trova a dover gestire delle difficoltà economiche non indifferenti quindi insomma la situazione non era proprio delle più rose esteticamente era una donna piccola era minuta era esile soprattutto aveva queste mani piuttosto piccole il figlio le definisce mani da fata aveva la pelle molto chiara vellutata rosea e questi occhi cangianti che a volte erano marrone scuro a volte quasi verdi un po a mandorla lunghi capelli neri però sempre legati è un aspetto appunto dimesso piccolo sembrava sempre più piccola dell'età che effettivamente aveva anche se lei si percepiva come vecchia tanto è vero che tendeva a togliersi qualche anno sì invece di dire che era nata nel 1871 più di una volta dichiarato di essere nata nel 1875 quindi insomma qualche problema di autostima effettivamente c'era da adolescente cominciò a scrivere e questa scrittura per lei diventa una necessità espressiva fortissima lei diceva di essere costretta da una forza sotterranea e questo lo scrive in un libro che si chiama cosima che un po la sua autobiografia perché è un romanzo ma racconta la sua storia quella che è stata la sua vicenda esistenziale pur non avendo avuto una vita densa di avvenimenti questi suoi primi scritti sono carichi di pathos di amori tormentati di vicende passionali estreme per certi versi a me lei fa pensare a emily bronti pensate a me di bronti a cime tempestose cioè lei racconta questa storia di ossessione morbosa di vendetta di una dipendenza tormentata e che sono legati l'uno all'altro da un sentimento che è terribile proprio da vampiri e eppure emily bronti non aveva vissuto nessuna di queste esperienze così passionale di cui parla nei suoi libri ma riesce a raccontarle riesce a renderle accessibili e credibili pur avendo avuto una vita morigerata e molto pieta che è ben lontana da questi fumi dell'amore passionale tormentato che poi amore non è di questi due personaggi e un po in questo senso grazie ad edda me la ricorda pensate che una delle primissime opere che scrive è sangue sardo uno scritto che viene inviato ad una rivista romana ultima moda e di che cosa si tratta è un racconto in cui la protagonista uccide l'uomo di cui è innamorata e che non la corrisponde perché aspira ad un matrimonio in realtà con la sorella di lei quindi un avvenimento piuttosto conturbante no un amore passionale che si risolve con un delitto abbastanza efferato di cui fra l'altro si macchia una donna che era un elemento al tempo all'epoca è insomma bello tosto è stiamo parlando di qualcosa di quasi proibito di se scriveva io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo ma perché amo intensamente il mio paese e sogno di poter un giorno irradiare con un mite raggio le fosche ombre dei nostri boschi di poter un giorno narrare intesa la vita e le passioni del mio popolo così diverso dagli altri così vilipeso e dimenticato e perciò più un misero nella sua fiera e primitiva ignoranza avrò tra poco vent'anni a trenta voglio avere raggiunto il mio sogno radioso qual è quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda sono piccina piccina sa sono piccola anche in confronto delle donne sarde che sono piccolissime ma sono ardita e coraggiosa come un gigante e non temo le battaglie intellettuali questa sembra una grande prova di forza di dimostrazione del suo carattere del suo timbro della sua tempra però abbiamo visto che in realtà non era così tanta così tanto sicura di sé anche perché la gente della sua terra non ammira il suo modo di scrivere e i suoi conterranei gridano allo scandalo i compatrioti scrive lei da un'altra parte per poco non la lapidano anzi la coprivano di maldicenza sostenendo che i libri che pubblicava in realtà non li avesse scritti lei cioè dicevano che lei praticamente faceva ghostwriter insomma ci metteva la firma ma poi il libro lo scriveva qualcun altro perché ritenevano che una donna non fosse in grado di riuscire a scrivere delle cose talmente profonde talmente fierine talmente davvero viscerali perché lei affondava le mani nella tradizione anche folcloristica della sua terra rielaborando dei temi estremamente interessanti come a dirla tutta nessuno aveva mai fatto e le male lingue aumentarono aumentarono in maniera esponenziale nel momento in cui continua la parabola esistenziale di grazia dell'edda che ad un certo punto incontra un uomo lei aveva avuto una serie di relazioni insomma di contatti con alcuni aveva avuto anche una prima un primo approccio di una prima relazione che finisce quasi subito perché poi non se ne fa niente il compagno poi insomma il presunto compagno preferisce un'altra lei però ad un certo punto partecipa ad una ad una festa ad una riunione in casa d'amici a cagliari durante la quale si tiene un gioco di società incontra in questa occasione un uomo proveniente da da mantua originario di mantua un funzionario del ministero della finanza si chiamava palmiro madesani e in quell'occasione durante il gioco di società le viene chiesto di fare una penitenza e come penitenza viene chiesto a grazia di dire chi dei presenti le sarebbe piaciuto sposare e lei indica proprio palmiro palmiro madesani allora non sapeva che effettivamente qualche tempo dopo palmiro madesani le avrebbe fatto una proposta di matrimonio che lei accettò alla condizione che il matrimonio si sarebbe dovuto ottenere immediatamente entro due mesi infatti due si sposano e si trasferiscono a roma e per grazia questa è una grande occasione un'occasione di respiro di libertà perché lei viveva questo rapporto con la sardegna in maniera molto conflittuale aveva voglia di raccontare la bellezza la profondità anche quella primitiva innocenza da una parte bestialità dall'altra di questa terra ma al contempo non si sentiva riconosciuta non si sentiva capita e aveva voglia di trovare un ambiente nel quale potesse esprimersi così come nel profondo ne percepiva la necessità e così guardando alla sardegna da roma da questo punto distante comincia a raccontare ciò che della sardegna è mito tradizione folclore anche fiaba spirituale riesce a trovare un sostrato di elementi narrativi che diventano poi il cuore pulsante della sua produzione la natura si ferma diventa lo spirito simbolico di uno stadio inventivo dell'anima e quest'infanzia perduta diventa mito nel periodo in cui si stabilisce a roma la sua relazione coniugale procede molto bene a due figli france e sardus che vi dico una curiosità acquisirono entrambi i cognomi si chiamarono appunto madesani veledda e questo già indicativo no per tutti coloro che dicono che ci deve essere spazio anche per una scelta un po più ampia ci sono varie campagne in questi termini e questa è stata una scelta appunto dei figli lei poi comincia a frequentare dei salotti comincia a frequentare delle scrittrici che diventano sue conoscenti con le quali intreccia anche dei rapporti piuttosto profondi diventa amica di sibilla aleramo di eleonora duse di ada negri di matilde serao sibilla aleramo fra l'altro di lì a breve avrebbe avuto una serie di problemi anche economici piuttosto importanti e grazie ad eled interviene c'è questo aneddoto interessante che ci fa capire un po della sua personalità lei doveva percepire degli introiti da un racconto che aveva lasciato aveva pubblicato sul corriere della sera e scrive al giornale dicendo di versare direttamente l'importo che le sarebbe toccato sul conto a nome di sibilla aleramo e di non aggiungere altro si occupava personalmente della casa aveva una domestica ma la seguiva praticamente in tutto perché voleva avere la responsabilità di quello che faceva andava con lei anche a fare la spesa si sceglieva le verdure quello che voleva mangiare ogni tanto prova a cucinare ma forse questo avrebbe proprio fatto bene evitare a farlo perché pare che non fosse una brava cuoca non le riusciva per niente bene lei ogni tanto si cimentava ma i figli insomma non apprezzavano particolarmente questi risultati diciamo che era meglio come scrittrice che non come cuoca e poi aveva un modo di dedicarsi alla scrittura che era tutto particolare perché lei si dedicava sia alla scrittura ma in modo molto molto disciplinato un'ora e mezza al giorno non di più scriveva ogni giorno lo stesso numero di cartelle quindi ci si chiede ma era una scrittura ispirata o era una scrittura modulata calibrata preparata un lavoro a tavolino mi ricorda un po il modo di lavorare di murakami no uno scrittore giapponese che io amo tantissimo e che ha un modo di elaborare la scrittura che proprio così disciplinata no mediata dalla dall'educazione che lui ha anche nei confronti dell'attività sportiva perché lui è un maratoneta e tutti i giorni si dedica sia all'attività fisica che all'attività di scrittura proprio come se fossero delle attività di ufficio che da una parte rende molto sistematica l'attività dall'altra non so mi fa sempre chiedere ma l'ispirazione dove si va a collocare cioè la riesci a canalizzare a far entrare in quel momento e mi riesce un po difficile da pensare cioè ammiro questa modalità però dall'altro mi diventa quasi complicato entrare in questa logica nel 1903 lei scrive lì a sportolo quel suo primo grande romanzo nel 1904 scrive poi cenere che sarà interpretato in un secondo momento da leonora duse che lo porta al cinema riscuoterà un grande successo anche se va detto che eleonora duse in passato aveva ricevuto una proposta da parte di grazia del edda grazia le aveva chiesto di interpretare appunto un suo scritto ma eleonora duse si era rifiutata per motivi di tempo diceva perché in quel momento si stava dedicando ad altre cose sono gli anni in cui scrive i suoi romanzi ne scrive tantissimi grazia del edda stiamo parlando di una cinquantina di pubblicazioni scrive l'edera che diventerà un altro grande romanzo scrive canne al vento che per molti è il suo capolavoro scrive la madre il suo successo è talmente plateale che palmiro lascia il lavoro ed ecco che qui è proprio il trionfo delle male lingue perché palmiro che aveva un bel posto fisso piazzato bello sistemato al ministero delle finanze decide di seguire la moglie addirittura avendo un ottimo fiuto per gli affari evidentemente ereditato da questo periodo al ministero delle finanze le organizza tutti gli incontri prende i contatti con gli editori organizza la promozione dei libri diventa tutti gli effetti il suo agente editoriale o per dirla in termini contemporanei un po esterofili il suo manager un po inventa questa figura professionale che si c'era ma non era proprio istituzionalizzata lui è il manager di grazia non il manager della moglie e grazie al sodalizio così forte di questa coppia che è stata davvero una coppia ben riuscita una coppia ben amalgamata e funzionale lei poi è riuscita a raggiungere un successo strepitoso ma ovviamente questo tipo di atteggiamento non era ben visto dagli uomini dell'epoca che consideravano l'atteggiamento di palmiro come una prova di scarsa virilità perché un uomo non si sarebbe mai dovuto piegare a far da scendiletto alla moglie questa è la considerazione di tanti disertori di questo tipo di coppia ritenuta all'epoca disfunzionale uno fra tutti caso famoso luigi pirandello storia di cui vi ho parlato in passato in un video dedicato a canne al vento che vi lascio qui sopra nelle schede ho parlato proprio di quel romanzo e allora che succede luigi pirandello che a mio avviso e non solo mio era un genio ma comunque pur essendo un genio non esente dal sentimento umanissimo dell'invidia scrive un romanzo che intitola suo marito un romanzo che per molti aspetti ricalca la faccenda dell'edma desani perché racconta la storia di giustino boggiolo un modesto impiegato che lascia il proprio lavoro per dedicarsi alla carriera della moglie che è una scrittrice tanto è vero che questo romanzo poi lui lo aveva rimaneggiato a un certo punto aveva proposto come titolo alternativo giustino roccella nato boggiolo facendo gioco su questo cognome perché roccella era il cognome della moglie ovviamente giustino boggiolo che in realtà diventa giustino roccella cioè lui acquisisce il cognome della moglie perché quella che porta i pantaloni in casa è lei ed è un motivo di rimprovero no per questo tipo di ambiente familiare non è sicuramente un motivo di plauso che l'uomo si abbassi a far da dipendente della moglie questo romanzo fu rifiutato dall'editore treves che aveva in catalogo anche i libri della deledda perché i riferimenti alla vicenda familiare della scrittrice erano fin troppo palesi poi pirandello lo pubblica con un altro editore però in ogni caso rimane il fatto che evidentemente lui ne ha voluto fare un motivo di critica e di commento io credo che sia stata più felice il suo esito su altre pubblicazioni ecco diciamo così come vi dicevo i giornali parlavano di lei come casalinga prestata alla letteratura viene accusata di essere espressionista paternalista poco originale stantia noiosa antiquata da connazionali risvegli invece l'attenzione all'estero infatti le sue opere vengono immediatamente pubblicate in francia e tra le sue estimatrici c'era anche la regina margherita che leggeva tutti i suoi libri perché beh lo sappiamo molto spesso nemo profeta in patria nel suo caso bisognerà aspettare perché venisse riconosciuta in italia il successo però arriva e talmente arriva dall'estero che il 10 dicembre del 1926 riceve il famoso premio nobel un riconoscimento che le verrà appunto criticato da tantissime persone tanti diranno che non se lo meritava però comunque fatto sta che le arriva con questa motivazione che vi leggo per la sua potenza di scrittrice sostenuta da un alto ideale che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano pensate che quando arrivò il telegramma che comunicava che la deledda aveva vinto il premio nobel ci fu anche chi disse che era accaduto perché lei era ammanicata con il fascismo cosa assolutamente smentita che cosa era accaduto in realtà che nel momento in cui arriva questo premio mussolini la convoca la chiama per farle i complimenti e per chiedere che cosa il regime può fare per lei e lei in cambio chiede la liberazione di un amico un amico antifascista che era stato mandato al confino e per questa ragione venne appunto accusata venne detto che il premio le era stato conferito proprio perché in qualche modo c'era stato lo zampino di mussolini quando poi viene chiamata a pronunciare il discorso per il premio nobel in realtà lei cita il regno cita il re ma al duce non fa alcun riferimento quindi è evidente che non ha intenzione di mostrare nessun tipo di omaggio nei confronti del regime lo scrittore mario ciusa romagna ci dice che i nuoresi non l'amavano affatto perché non tendeva ad altro che a rivelare un mondo arcaico un mondo lontano un mondo vecchio e vi racconto quest'aneddoto che secondo me è estremamente emblematico un giorno era andata in chiesa e stava dicendo messa un sacerdote il quale ad un certo punto durante l'omelia pensò bene di rivolgersi direttamente a lei non in generale no facendo delle allusioni così evocative al massimo no si rivolge direttamente a lei dicendole che invece di dedicarsi a certe storie indegne avrebbe fatto bene a pregare Dio questa storia diventò veramente un caso perché l'uscita del prete dalla cattedrale di santa maria della neve fu epica in quell'occasione incontrò il cavaliere antonio ballero che era pittore scrittore fotografo una figura particolarmente conosciuta il quale pretese che il sacerdote ponesse le sue esplicite scuse a grazia dell'edda e il sacerdote si rifiutò praticamente i due vennero alle mani questo per farvi capire quanto questa figura fosse scomoda e ne fosse consapevole ma fosse anche grata di quello che la vita le stava offrendo quando andò a ritirare il premio nobel pronuncia questo discorso che vi voglio leggere perché secondo me è bellissimo sono nata in sardegna la mia famiglia composta di gente savia ma anche di violenti e di artisti primitivi aveva autorità e aveva anche biblioteca ma quando cominciai a scrivere a 13 anni fui contrariata dai miei il filosofo ammonisce se tuo figlio scrive versi correggilo e mandalo per la strada dei monti se lo trovi nella poesia la seconda volta puniscilo ancora se va per la terza volta lascialo in pace perché poeta senza vanità anche a me è capitato così avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di roma e a roma dopo il fulgore della giovinezza mi costruì una casa mia dove vivo tranquilla col mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in dio ho vissuto coi venti coi boschi con le montagne ho guardato per giorni mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi alle pietre alle rocce per ascoltare la voce delle foglie ciò che dicevano gli uccelli ciò che raccontava l'acqua corrente ho visto l'alba e il tramonto il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne ho ascoltato i canti le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo e così si è formata la mia arte come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo vedete quanto c'è di magia di fiaba folclore spiritualità legame con la terra ecco perché collocare grazie ad eleda all'interno di un genere è estremamente complicato io vi voglio leggere sempre perché le mie parole non sono sufficienti è sempre bene far parlare i testi far parlare lei vi voglio leggere una parte breve brevissima giuro di canne al vento dalla parte iniziale sono le primissime pagine lei ci dice così la luna saliva davanti a lui e le voci della sera avvertivano l'uomo che la sua giornata era finita era il grido cadenzato del cuculo il zirlio dei grilli precoci qualche gemito d'uccello era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume ma era soprattutto un soffio un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa sì la giornata dell'uomo lavoratore era finita ma cominciava la vita fantastica dei folletti delle fate degli spiriti erranti i fantasmi degli antichi baroni scendevano dalle rovine del castello sopra il paese di galte su all'orizzonte a sinistra di ethics e percorrevano le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi eccetera eccetera ora io vi domando secondo voi questo è un testo verista cioè un testo in cui si parla di fantasmi di antichi baroni e notti piene di vite fantastiche dei folletti fate e spiriti erranti si può parlare di verismo davvero perché secondo me no secondo me qui c'è qualcosa che non rientra nella categoria del verismo e allora possiamo parlare di decadentismo perché il decadentismo è fatto di linguaggi segreti che si corrispondono attraverso i messaggi occulti che si trovano al di là dell'evidenza sì forse ma se guardiamo gli altri esponenti del decadentismo italiano cioè pascoli ed annunzio molto difficile riuscire a fare un paragone con quello che propone grazie ad eledda e metterli tutti insieme all'interno dello stesso calderone questa è la ragione per cui voler per forza imporre un genere a uno scrittore o una scrittrice significa privarli di quella specificità che li rende unici interessanti profondi capaci di leggere e scrivere e comunicare il mondo grazie ad eledda e la sua parabola esistenziale hanno tantissimo da raccontare sia in termini letterari narrativi ma anche in termini di emancipazione femminile di ruolo che la donna può assumere anche senza bisogno di gridare o di esagerare nei toni e nei modi lei non apprezzava i movimenti femministi li reputava esagerati e inappropriati eppure con il suo stile di vita con le sue scelte ha dato prova di essere molto più femminista di tante altre che magari si professano così però dietro determinati atteggiamenti poi celano un profondo legame a delle dinamiche ancora strettamente patriarcali lei ha partecipato anche alla vita pubblica si è candidata in politica ha accettato tante critiche ha accettato di essere denigrata e considerata meno di quello che in realtà poteva fare a mio avviso però rimane una figura estremamente importante una figura che è un modello di comportamento e di vita sia per quello che ha saputo scrivere sia per quello che ha rappresentato come donna non amava particolarmente i movimenti femministi ve l'ho detto però in ogni caso riteneva che le donne dovessero dare una prova di quello che realmente potevano fare attraverso la propria competenza e la propria dedizione al lavoro insieme a palmiro hanno creato qualcosa di unico io credo che loro siano una delle coppie più belle della storia della letteratura perché quello che hanno raggiunto lo hanno raggiunto come coppia probabilmente se il marito non l'avesse secondata se non l'avesse aiutata a prendere i contatti a lavorare con gli editori non sarebbe arrivata a prendere il premio nobel non avrebbe avuto il successo che ha ottenuto quindi questo premio non lo ha preso solo grazia l'ha preso grazia insieme a palmiro è stata è stato il risultato di una sinergia di coppia che è un bellissimo esempio un bellissimo modello per tutti noi io dico ragazze donne tutte noi possiamo avere la possibilità di avere uno spazio tutto per noi quello che è virginia wolf chiamava la stanza tutta per sé quel luogo in cui si può mettere a frutto un talento quando quel talento si possiede e ragazzi uomini se la persona che vi sta accanto ha del talento assecondarla investire su quella persona è una ricchezza per entrambi soffocare il talento della persona che ci sta accanto è solo una dimostrazione di debolezza rivela che vorremmo essere di più vorremmo forse riuscire a brillare in qualcosa e non ci stiamo riuscendo perché ci sta offuscando la persona che ci sta accanto beh è molto complesso da vedere non è così semplice da ridurre possiamo riuscire a farcela trovando il nostro spazio mentre ce l'ha anche la persona che sta attorno ricordiamoci che è una coppia è fatta da due metà due metà sulle quali il sole deve risplendere perfettamente risplende su entrambe e quando c'è una parte che offusca l'altra perché vuole fagocitare l'altra parte quella non è una relazione sana una coppia funziona e funziona in maniera ottimale in maniera propositiva quando questo sole può esistere su entrambe le parti quando si viene a creare un equilibrio io credo che la coppia dell'edda ma desani sia un esempio perfetto di come si possa lavorare bene insieme ottenendo dei grandi risultati magari c'è uno sul palco ma l'altro dietro le quinte e se dietro le quinte non c'è qualcuno che si occupa di far funzionare bene tutti gli archetti e l'aspetto fonico e l'illuminotecnica l'esibizione non andrà bene sul palco scenico quindi non basta che ci sia una persona sul palco ci vuole anche qualcuno dietro le quinte che faccia il lavoro importante si lavora insieme in questo senso e credo davvero che loro siano un modello da questo punto di vista e voglio lasciare questo messaggio a voi questo messaggio a noi tutti e ringraziare ancora una volta grazie ad el'edda nella speranza che venga riproposta di più nelle scuole che venga studiata con la stessa dignità che viene conferita ad altri scrittori perché è una scrittrice grandissima potente riconosciuta perché il premio nobel non è un premio opinabile è un premio di un'importanza e di un valore indiscutibile a mio avviso e quindi le dovremmo ridare lo spazio che merita io vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine di questo video noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un prossimo appuntamento e in seguito ancora con non ero una brava persona vi auguro una buona giornata e ciao